Ciao ragazzi, io sono Luca e questo è Drink Corner, lo show in cui ogni settimana parliamo di come preparare, migliorare e servire i nostri drink. Per l'uscita di Twilight Breaking Down parte 2, oggi Vampiro. Il Vampiro è un cocktail che va servito all'interno di un eyeball. Eyeball che andremo a riempire di ghiaccio all'incirca a metà. Il tutto, il drink andrebbe preparato abbastanza velocemente, in modo tale che il ghiaccio all'interno dell'eyeball non si scioglia. L'occorrente per il nostro Vampiro è il seguente. Tequila. Succo di pomodoro. Succo d'arancio. Succo di lime. Miele. Worcestershire sauce. Sale. Cipolla. Peperoncino rosso. E limone. La tecnica che utilizzeremo per preparare il nostro Vampiro è quella dello Shake and Stray. Ovviamente, siccome la quantità di liquido che compone il cocktail è abbastanza elevata, l'andremo a versare non all'interno di un eyeball, ma all'interno del Boston. Boston che riempiremo con un bicchiere di ghiaccio, appunto, quello. E quindi gli ingredienti andranno versati appunto all'interno del nostro Boston. Come abbiamo detto, il primo ingrediente principale, o quello con cui partiamo, è la tequila. Tequila che andremo a versare in una quantità di un ounce e tre quarti, quindi un bubble set. In questa maniera. Bubble, two, three, four, five, six, set. A seguire, 7 cl di succo di pomodoro, 3 cl di succo d'arancio, 1 cl di succo di lime, poi un cucchiaino di miele, in questa maniera. Ovviamente utilizzate altri cucchiaini per aiutarvi a far scendere il miele dal cucchiaino. Qualche slice di peperoncino rosso. Un mezzo slice di cipolla tagliata finemente. Il pizzico di sale. E per finire, qualche goccia di Worcestershire sauce. Ora, chiuderemo il nostro Boston con l'eyeball e shakereremo energicamente per all'incirca 10-15 secondi, in questa maniera. ecco fatto. Andiamo ad aprire il nostro Boston. Prendiamo il nostro eyeball con riempito di ghiaccio fino a metà. Ovviamente, se il ghiaccio si è sciolto, per privarlo dell'acqua formata all'interno, possiamo comunque colarlo in questa maniera. E ora andiamo a versare il nostro drink all'interno dell'eyeball con il ghiaccio quasi a metà. Sempre stando attenti a non far uscire i cubetti di ghiaccio dal nostro Boston e dal nostro eyeball. E ora andiamo a uscire i cubetti di ghiaccio di ghiaccio di ghiaccio di ghiaccio. In questa maniera. E con un dischetto di limone. Così. Benissimo. Il nostro vampiro è pronto. Questo conclude la puntata di oggi. Se il video ti è piaciuto e non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale di YouTube per essere sempre aggiornato sull'uscita di nuovi episodi. Se pensi che questo video possa piacere anche ai tuoi amici, condividilo su Facebook o su Twitter. Se hai qualche commento o domanda, lasciaci un messaggio in bacheca. Se hai preparato qualcuno dei nostri cocktail, condividi con noi le foto su Facebook. Io sono Luca e questo è Dream Corner. Ci vediamo giovedì alle 18. Ciao! Grazie a tutti.